Piper si fece largo fra i boreadi e fu come camminare in un congelatore per la carne. L'aria intorno a loro era così fredda da bruciarle il viso. Le sembrava di respirare neve pura. Tentò di non guardare il corpo congelato di Jason mentre ci passava accanto. Tentò di non pensare agli amici sotto coperta, né a Leo sparato in cielo chissà dove verso un luogo di non ritorno. Tentò soprattutto di non pensare ai boreadi e alla dea della neve che la seguivano. Fissò lo sguardo sulla polena. La nave dondolava sotto i suoi piedi. Una raffica di aria estiva riuscì a insinuarsi nel gelo e Piper la inalò, considerandolo un segno di buon auspicio. Era ancora estate là fuori. Ione e i suoi fratelli non c'entravano niente lì. Piper sapeva di non poter vincere in un combattimento diretto contro Chione e i due tizi alati e muniti di spade. Non era scaltra come Annabeth, né brava a risolvere i problemi come Leo. Ma anche lei aveva un potere e intendeva usarlo. La notte precedente, durante la chiacchierata con Hazel, Piper aveva capito che il segreto della lingua maliatrice era molto simile all'utilizzo della foschia. In passato aveva avuto un sacco di problemi a farla funzionare, perché ordinava ai nemici di fare quello che voleva lei. Urlava cose tipo «non ucciderci», quando il più grande desiderio del mostro era proprio quello di ucciderli. Infondeva sempre tutto il proprio potere nella voce, sperando che bastasse a schiacciare la volontà dei suoi avversari. A volte funzionava, ma era una tattica spossante e inaffidabile. Afrodite non era fatta per il confronto diretto. Afrodite era sottigliezza, malizia e fascino. Piper decise che non doveva concentrarsi per costringere gli altri a fare quello che voleva lei. Doveva spingerli a fare quello che volevano loro. Una teoria fantastica, se solo fosse riuscita a farla funzionare. Si fermò all'albero di trinchetto e si girò verso Chione. «Wow, ho appena capito perché ci ho di tanto», disse in un tono di voce intriso di pietà. «Ti abbiamo umiliato alla grande, a Sonoma!» Gli occhi di Chione scintillarono come un caffè ghiacciato. La dea lanciò un'occhiata imbarazzata ai fratelli. Piper rise. «Oh, non gliel'avevi detto! Non ti viasimo! Avevi un re dei giganti dalla tua parte, più un esercito di lupi e di figli della terra! Eppure non ci hai sconfitto!» «Tocci!» Sibilò la dea. L'aria si annebbiò. Piper sentì il ghiaccio che le si formava sulle sopracciglia e le congelava i dotti uditivi, ma sfoggiò un sorriso. «Come vuoi!» Fece l'occhiolino Zete. «Però è stato molto divertente!» «La mia bella sta sicuramente mentendo!» commentò Zete. Chione non è stata sconfitta alla casa del lupo. Ho detto che è stata una… qual era il termine? Una ritirata tattica? «Una frittata?» domandò Cal. «Buona!» Piper gli diede una spinta, come se fossero grandi amici. «No, Cal! Vuol dire che tua sorella è fuggita via!» «Non è vero!» strillò Chione. «Come ti ha definito, Era?» Piper finse di pensarci su. «Ecco, una dea di serie B!» E di nuovo scoppiò in una risata talmente autentica da contagiare Zete e Cal. «Questa è tre buon, sì!» commentò Zete. «Una dea di serie B!» «Oh!» gli fece ecco Cal. «Serie D!» «Oh!» L'abito bianco di Chione cominciò a fumare. Del ghiaccio si formò sulla bocca di Zete e Cal. «Mostraci questo tuo segreto, Piper McLean!» ringhiò Chione. «E poi prega che ti lasci intatta su questa nave!» «Se ti stai prendendo gioco di noi, ti mostrerò gli orrori del congelamento!» «Dubito che Zete ti vorrà ancora se non avrai più le dita delle mani o dei piedi!» «E forse neppure il naso o le orecchie!» Zete e Cal sputarono i tappi di ghiaccio che si erano formati sulla bocca. «La mia bella sarà meno bella senza naso!» ammise Zete. Piper aveva visto le foto di alcune persone congelate. La minaccia di Chione la terrorizzò, ma non lo lasciò trapelare. «Venite allora!» li guidò verso prua, canticchiando una delle canzoni preferite del padre, Summertime. Arrivata alla polena, mise una mano sul collo di Festus. Le squame di bronzo erano fredde, nessun meccanismo ronzava, gli occhi color rubino erano smorti e cupi. «Ti ricordi il nostro drago?» domandò Piper. Chione rise beffarda. «Non può essere questo il tuo segreto! Il drago è rotto! Il suo fuoco è svanito!» «Beh, sì!» Piper accarezzò il muso di Festus. Non aveva il potere di Leo di far girare gli ingranaggi o accendere i circuiti. Non riusciva a percepire niente sul funzionamento di una macchina. L'unica cosa che poteva fare era parlare a cuore aperto e dire al drago quello che più di tutto voleva sentirsi dire. «Ma Festus è più di una macchina! È un essere vivente!» «Ridicolo!» commentò secca la dea. «Zet e Kal! Radunate i semi dei congelati sotto coperta! Poi romperemo la sfera dei venti!» «Fatelo pure, ragazzi!» concordò Piper. «Ma in questo modo non vedrete chione umiliata! So che vi piacerebbe!» I Boreadi esitarono. «Ok!» domandò Kal. «Sarà quasi altrettanto divertente!» gli assicurò Piper. «Avete combattuto al fianco di Giasone e degli Argonauti, vero? Su una barca come questa, la prima Argo!» «Sì!» ammise Zete. «L'Argo! Assomigliava molto a questa, ma non avevamo un drago!» «Non ascoltarla!» gridò Chione. Piper si accorse che le si stava formando del ghiaccio sulle labbra. «Potresti mettermi a tacere!» si affrettò a dire. «Ma vuoi conoscere il mio potere segreto! Come distruggerò te, Gea e i giganti!» Gli occhi di Chione ribollivano di odio, ma la dea contenne il gelo. «Tu non hai nessun potere!» «Detto da una dea di serie B», ribatte Piper. «Una che non viene mai presa sul serio! Una che vuole sempre più potere!» Si girò verso il drago e gli passò una mano dietro le orecchie metalliche. «Sei un buon amico, Festus! Nessuno può davvero disattivarti! Sei più di una semplice macchina!» Chione non lo capisce! Si girò verso i Boreadi. «Non apprezza neanche voi! È convinta di potervi comandare a bacchetta perché siete semidei, non veri e propri dei! Non capisce che voi due siete una squadra potente!» «Una squadra!» grugnì Cal. «Come i Canadiens di Montreal!» Dovette sforzarsi per pronunciare quel nome perché era composto da più di due sillabe. Sorrise tutto contento. «Esatto!» disse Piper. «Proprio come una squadra di hockey! L'intero è maggiore della somma delle sue parti!» «Come la pizza!» aggiunse Cal. Piper rise. «Sei in gamba, Cal! Anch'io ti avevo sottovalutato!» «Aspetta un po', protestò Zete. «Anch'io sono in gamba! E bello!» «Molto in gamba!» concordò Piper, ma glissò sul bello. «Quindi metti giù la bomba di vento e stai a guardare l'umiliazione di Chione!» Zete sorrise beato. Si accovacciò e fece rotolare la sfera di ghiaccio lungo il ponte. «Scemo!» urlò Chione. Prima che la dea riuscisse a correre dietro alla sfera, Piper gridò «La nostra arma segreta, Chione! Non siamo solo un gruppo di semidei, siamo una squadra!» «Proprio come Festus, non è solo un insieme di parti meccaniche! È vivo! È un quando i suoi amici sono in difficoltà! Soprattutto Leo! Si sveglia da solo!» Piper infuse tutta la propria sicurezza nella voce, tutto l'amore per il drago di metallo e per quello che Festus aveva fatto per loro. La sua parte razionale sapeva che era un tentativo disperato. Come si può far partire una macchina usando le emozioni? Ma Afrodite non era razionale. Comandava attraverso le emozioni. Era la più antica e primordiale degli dèi dell'Olimpo, nata dal sangue di Urano che ribolliva nel mare. Il suo potere era più antico di quello di Efesto e di Atena e perfino di Zeus. Per un lungo attimo non accadde nulla. I boreadi cominciarono a uscire dal loro stato di torpore, delusi. «Al diavolo il piano!» ringhiò Chione. «Uccidetela!» Mentre i boreadi sollevavano la spada, il rivestimento di metallo del drago si fece caldo sotto la mano di Piper. La ragazza si gettò a terra, placando la dea della neve, mentre Festus girava la testa di 180 gradi e sputava fuoco, disintegrando i boreadi. Per qualche ragione, la spada di Zette fu risparmiata e cadde sul ponte, ancora fumante. Piper si rimise in piedi a fatica, individuò la sfera dei venti che si trovava alla base dell'albero di Trinchetto e si precipitò a prenderla. Ma prima che riuscisse a raggiungerla, Chione si materializzò davanti a lei in un turbine di brina. La pelle della dea era di un candore accecante. «Povera ragazza!» sibilò Chione. «Pensi di poter sconfiggere me? Una dea?» Pestus ruggì ed emanò un fiotto di vapore. Ma Piper capì che non poteva sputare di nuovo fuoco senza colpire anche lei. La sfera di ghiaccio cominciò a incrinarsi e sibilare. Non c'era più tempo per le sottigliezze. Piper gridò e sollevò il pugnale, scagliandosi contro la dea. Chione le afferrò un polso. Il ghiaccio corse sul braccio della semidea. La lama di Catoptris divenne bianca. La faccia della dea era una ventina di centimetri da quella di Piper. Chione sorrise, consapevole di aver vinto. «Figlia di Afrodite! Tu non voli niente!» Pestus cicolò di nuovo. Piper era sicura che stesse tentando di gridare per incoraggiarla. All'improvviso la figlia di Afrodite sentì un'ondata di calore dentro il petto, non di rabbia né di paura, ma di amore per quel drago e per Jason, che dipendeva da lei. Per gli amici intrappolati sotto coperta e per Leo, che era disperso e avrebbe avuto bisogno del suo aiuto. Forse l'amore non riusciva a tenere testa al ghiaccio, ma Piper lo aveva usato per svegliare un drago di metallo. I mortali compiono di continuo gesta sovrumane in nome dell'amore. Le madri sollevano le auto per salvare i figli. E Piper era di più di una semplice mortale. Era una semidea, un'eroina. Il ghiaccio sucato Ptris si sciolse. Il braccio della ragazza prese a fumare sotto la stretta di Chione. «Continui a sottovalutarmi», disse Piper alla dea. «Mi sa che devi lavorarci un po'. L'espressione compiaciuta di Chione vacillò, mentre Piper puntava il pugnale verso il basso. La lama sfiorò il petto della dea, che esplose, formando una tempesta in miniatura. Piper si accasciò, stordita dal freddo. Udifestus che ticchettava e ronzava, mentre le campane d'allarme riprendevano a suonare. La bomba! La sfera si trovava a circa metri di distanza. Si bilava e roteava, mentre i venti al suo interno cominciavano ad agitarsi. Piper fece fatica a rialzarsi. Si tuffò a prenderla. Strinse le dita intorno alla bomba, proprio mentre il ghiaccio si spaccava. E i venti esplodevano.